casuale la via della conoscenza attraverso attilio m vocedella quiete punto vaiano chiocciola gmail.com una voce l'uomo nasce l'uomo vive l'uomo muore lungo quel tragitto ognuno incontra persone fatti naturali e fatti sotto forma di azioni prodotte da lui o in relazione con altri oppure fatti subiti ad opera di altri esseri quindi tutte le volte che non riesce ad attribuire un'azione ad un qualcuno si genera in lui l'idea di imprevedibilità di non programmabilità e di non causalità questo perché nonostante l'uomo sia abituato a stabilire delle connessioni nel suo agire in prima persona e nei fatti che coinvolgono altri individui sente che qualcosa comunque gli sfugge per quanto sia vasto ed articolato il principio di causa effetto che introduce per spiegarsi ciò che accade tutte le volte che non gli risulta circoscrivibile e definibile con i parametri che è abituato ad utilizzare a quel punto non può fare altro che ammettere che un fatto può essere dichiarato casuale ovvero sia non motivabile attraverso gli strumenti di analisi che lui utilizza e nemmeno rifacendosi a ciò che già conosce o che può ottenere attraverso informazioni ecco perché è possibile affermare che in base ai criteri umani la vita è caratterizzata da elementi di causalità e da elementi di casualità ecco adesso ecco 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 ecco